Sacchi neri davanti alle porte, anche uno sopra l'altro, borse di plastica piene di spazzatura, bidoni dell'umido strabordanti e disordinati, persino sedia rotte, casse di legno e scatoloni. Più volte alla settimana, in orario serale, il marciapiede di Via Roma diventa una promenade dell'immondizia, una passeggiata con scarti indifferenziati lasciati per terra in attesa del passaggio degli operatori di IREN per la raccolta, in teoria differenziata, nei fatti tutt'altro. Una situazione di degrado che viene segnalata da alcuni residenti del quartiere. I sacchi neri, in assenza dei contenitori differenziati per la plastica e la carta, una volta rimossi al mattino lasciano puntualmente macchie sulla superficie pubblica. Nei mesi scorsi il Comune ha annunciato l'avvio di un percorso di sensibilizzazione e comunicazione tra i residenti, in particolare le comunità straniere, con l'obiettivo di evitare queste microdiscariche. Alla base dell'immondizia sparpagliata sul marciapiede, infatti, ci sono persone che ignorano l'esistenza della raccolta differentiata porta a porta, oppure soggetti che non pagano l'attari, la tassa dei rifiuti, e che quindi non hanno i contenitori. Nella zona di Via Roma del resto IREN dovrebbe ritirare i sacchi due volte alla settimana, invece gli operatori sono costretti a passare ogni giorno o quasi per mantenere la città pulita.